E' stato il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, a premiare questa mattina l'eccellenza del concorso Nuovi talenti d'Europa, macro area innovativa e tecnologica, indetto dall'Unione Europea e dall'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale. Si tratta di alunni dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Morselli, Luca Oceana, Mattia Lagognata, Vittorio Migliore e Giuseppe Traniti, coordinati dal professore Pietro Giannone. Lo studio e la ricerca, detto il Governatore, rappresentano la prima leva per il rilancio dello sviluppo della Sicilia e sono felice che tanti giovani siciliani abbiano partecipato al progetto dimostrando in tutta la Sicilia la capacità di cimentarsi con le nuove tecnologie. E proprio da Gela è partita una risposta alta dalla società e dai giovani che accettano la sfida della quarta rivoluzione industriale che è basata proprio sull'informatica, sulle smart city, sulle nuove tecnologie e sull'economia verde. Pensavo con la preside perché non fare, istituire due seminari per l'anno prossimo di ricerca che coinvolgono magari alcune università, la stessa Eni, proprio nel campo delle tecnologie rinnovabili ma anche nel campo dell'agricoltura. Ne parlerò con l'Eni, vediamo se riusciamo a farlo, io convido proprio di sì. Uno di questi, che è quello proprio sull'innovazione tecnologica, ha visto vincere questi ragazzi, questi quattro ragazzi di Gela che hanno prodotto un'applicazione straordinaria che siamo certi, troverà, così come diceva il professore che li ha seguiti, interessi anche nazionali. Abbiamo cercato di valorizzare anche le eccellenze nel primo biennio, infatti abbiamo portato avanti un concorso che ci ha consentito di premiare 50 studenti del biennio. L'anno prossimo cercheremo di coinvolgere gli studenti del secondo triennio perché il nostro obiettivo è quello di creare eccellenze, perché le potenzialità ci sono tutte. I nostri laboratori sono straordinari, i docenti sono molto preparati ed appassionati, quindi penso che abbiamo tutti i numeri per proseguire in questo percorso. Presidente, oggi è una felice circostanza, si celebra il nostro compianto Peppino Impastato e lei l'ha voluto ricordare anche oggi per lasciare ancora un altro spunto di riflessione ai giovani. Ma per ricordare ai giovani siciliani, ai giovani genesi che debbono essere orgogliosi di essere genesi e di essere siciliani, perché in Sicilia non ci sono solo i mafiosi, ci sono anche quelli che nella lotta alla mafia hanno dato la vita e in questo caso il fatto che sia stato un ragazzo a pagare il suo impegno antimafia deve ricordargli oggi di essere particolarmente vicino perché quel ragazzo ha dato la cosa più grande che può dare un uomo per la società, la propria vita. L'attestato di riconoscimento conferito dal Presidente della Regione Rosario Crocetta, la professore Pietro Giannone dell'Istituto Tecnico Industriale Emanuele Morselli di Gela ha un significato altisonante perché proprio il docente ha promosso e coordinato le attività degli studenti nella realizzazione del progetto contribuendo alla valorizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile della Sicilia. È un'app che cerca di fondere gli aspetti tecnologici a quelle che sono le necessità del XXI secolo, cioè quella di un'attenzione verso le tematiche ambientali, corretti stili di vita e fondendola anche alla manifestazione Expo che l'anno scorso era nel periodo, c'era in contemporaneo con questa attività. Per cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di questa applicazione che fonda le due cose, l'aspetto prettamente tecnologico con quello che è la cura verso il mondo in cui viviamo. Ma quali sono i progetti per il futuro e a chi dedicano il premio ricevuto oggi dal Governatore gli studenti protagonisti del concorso? C'è l'università, quindi il completamento della mia carriera scolastica, continuando con l'elettronica, andremo in ingegneria a Torino. Sinceramente io voglio dedicare questo premio, non è proprio una dedica, è come se io lo stessi regalando alla mia città perché l'ho aiutata, so di averla aiutata e questo mi fa sentire meglio veramente perché posso dire che ho fatto qualcosa per Gela. I miei progetti per il futuro sono andare all'università, andrò nella facoltà di informatica, in Nord Italia devo scegliere tra Pisa, probabilmente sono indirizzato verso Pisa e voglio dedicare il premio alla scuola che mi ha permesso di partecipare a questo progetto e di spendermi attivamente in una cosa per quello che mi piace fare, cioè l'informatica e app. Spero anche io di diventare un ingegnere, questo premio lo dedico soprattutto alla mia scuola e alla mia città perché comunque è solo grazie a loro se noi abbiamo partecipato a questo concorso e abbiamo vinto anche questo viaggio di istruzione a Bruxelles che ci ha permesso di essere, di far parte dell'Europa. Basterebbe mettere in funzione le telecamere installate con il progetto Gela Città Futura al fine di reprimere gli incendi e gli atti vandalici, lo dice il capogruppo consigliare del megafono Sara Bonura che ha presentato una interrogazione alla giunta messinese. Nel 2005 il sindaco, attuale presidente della regione Rosario Crocetta con il progetto Gela Città Futura aveva fatto installare in città numerosissime telecamere appunto per contrastare il fenomeno della microcriminalità. Ad oggi il 90% delle telecamere risulta fuori uso, pertanto ho fatto questa interrogazione per chiedere al sindaco di fare una manutenzione sia dei 5 server o addirittura di sostituire le telecamere. Dunque le telecamere potrebbero servire da deterrente? Certo, potrebbero servire da deterrente anche perché si vedrebbe chi in qualche modo compie questi atti dannosi per la nostra città. Inoltre ogni anno erano stati previsti circa 40.000 euro per la sistemazione delle telecamere e per la manutenzione e però ad oggi a quanto pare non risultano che siano stati utilizzati. Bonura ha chiesto al sindaco di convocare un vertice sul tema sicurezza alla presenza del prefetto e dei vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine. Io ho chiesto un vertice, che venga convocato un vertice al sindaco dove appunto debbano partecipare il prefetto, il questore, il comandante della polizia municipale e tutti i dirigenti delle forze dell'ordine, nonché anche i professionisti utili per sviscerare il problema in modo valido e profondo e apportare delle soluzioni a questo fenomeno che ormai non si riesce più a controllarlo. Ma al di là del funzionamento delle telecamere sarebbe però anche opportuno che la gente a Gela quando si accorge di qualcosa denunciasse? Eh certo, anche questo, però è anche vero che nonostante vengano denunciati questi fatti purtroppo non si riesce a trovare chi li commette. Dunque l'auspicio, l'augurio è che le telecamere funzioni e che si possa vivere in massima tranquillità. Certo, l'auspicio sarebbe quello di poter dormire serenamente a casa nonostante le macchine vengano lasciate tranquillamente, parcheggiate sotto la propria abitazione. Oltre 11.000 libri nella nuova biblioteca dell'eliceo classico Eschilo di Gela è intitolata La memoria del preside Nicolo Di Fede, uno spazio plurale che sarà aperto alla città, assieme cultura e conoscenza. Ieri taglio del nastro alla presenza del governatore della Sicilia il gelese Rosario Crocetta. La benedizione dei locali è stata affidata al vicario foranio Michele Mattina. Inaugurare una biblioteca è sempre un elemento importante perché avere una biblioteca, la cultura è la ripartenza di tutto. Non ci può essere rinnovamento della società senza cultura. E soprattutto non c'è cambiamento della società senza l'impegno dei giovani che rappresentano anche la possibilità di migliorare la società, magari riparando gli errori del passato e introducendo forti elementi di cambiamento e innovazione. Senza i giovani la società sarebbe ferma. Visibilmente soddisfatto è il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri. E' una giornata che aspettavamo da molto tempo perché abbiamo costruito letteralmente questo spazio plurale di una biblioteca che è storica, che era stata bruciata una quarantina d'anni fa e che ha ospitato la cultura, l'intelligenza gelese anche per il patrimonio di libri che in essa è contenuto e che necessitava di un adeguamento che oggi finalmente abbiamo. L'abbiamo denominato spazio plurale, l'abbiamo denominato così perché è una biblioteca di libri ma è anche una biblioteca in cui attraverso il wifi si possono avere le poltroncine e i tavoli e 10 computer e si possono fare tutte le ricerche del caso. Vertice a Palermo presso la sede regionale della protezione civile per discutere degli attavici problemi legati alla fruibilità del porto rifugio di Gela. I soggetti coinvolti adesso sperano che al più presto gli interventi strutturali possano essere cantierabili. Si è discusso delle problematiche del porto che ormai sono in dirittura del rivo completamente, il porto è completamente chiuso, bloccato. E' emerso che ieri la protezione civile ha presentato un progetto definitivo per l'escavo e l'allungamento del braccio del porto di 120 metri. Il problema adesso nasce nel reperire le somme per quanto riguarda estrapolare questa cifra di 5 milioni e 800 mila euro dal protocollo d'indesa del 6 novembre fra Eni e Regione. Speriamo che il Presidente della Regione si mobiliti nel più breve dei tempi possibili a far sì che si reperiscano queste somme per poter iniziare a mandare in gara d'appalto il progetto di ieri. Il direttore Foti della protezione civile ha detto chiaramente che non ci sarà una ruspa o una draga prima di sei mesi circa. Quindi questi saranno per me e anche per loro i tempi, perché il tempo che il tutto si reperiscano le somme, il tutto vada in gara, non saranno meno di sei mesi. Quindi a questo ci dobbiamo, come dire, rassegnare. Ci vorranno ancora mesi prima di poter cominciare ad agire concretamente per risolvere il problema dell'insabbiamento. Tempo prezioso che acuisce la crisi delle attività che insistono nell'area portuale gelese. Il problema è dei pescatori e degli operatori marittimi che ovviamente giornalmente dovranno uscire per andare a lavorare e quindi sono impossibilitati a fare la loro vita quotidiana di lavoro perché non possono uscire dall'imboccatura. Ovviamente nella riunione anche il comandante della Capetineria ha presentato una relazione dove ha relazionato il peggioramento dello stato dei fondali. Tutta la responsabilità, come ha detto il dirigente Foti, è della regione Sicilia in persona del presidente Crocetta perché deve convocare l'ultima riunione per cercare di decretare i fondi delle compensazioni. La commissione bilancio che lei presiede, Salvatore Scerra, si dovrà occupare dell'assesura di un regolamento comunale per disciplinare l'uso e la destinazione delle risorse economiche che sono generate dall'estrazione petrolifera nel territorio di Gela. Quali saranno le linee guida che terrete presenti per stilare queste regole? Inizieremo l'iter per regolamentarne l'uso garantendo i criteri di legittimità, legalità e soprattutto trasparenza. La commissione ha il compito di comunicare con la città e quindi informare la città come sono state spese prima queste somme e soprattutto come verranno spese e la qualità della spesa. Avete già presente ben chiaro il quadro relativo al passato o dovrà essere avviato intanto uno studio di approfondimento su ciò che è stato per poi capire come bisognerà orientarsi per il futuro? Diciamo che ho dato un'occhiata a dei regolamenti che già sono vigenti in altre città. Comunque avvieremo la prima consultazione con l'amministrazione comunale per capire come sono state spese in passato quindi incontreremo pure il dirigente De Petro e poi inizieremo la discussione con la cittadinanza. Per avviare questo iter che sembra essere abbastanza complesso e chiedete la collaborazione di tutte le parti politiche. Sì, infatti questa è una priorità che abbiamo discusso in commissione. Abbiamo detto che oltre a sentire la parte politica presente nei gruppi consigliari sentiremo pure quelli extra consigliari, quindi tutte le forze politiche presenti in città ma soprattutto la società civile che in questo momento soffre di questa grande crisi economica e quindi cercare di capire come è meglio far sviluppare queste somme delle royalties. Secondo lei quali sarebbero le priorità da affrontare? Cioè queste somme come andrebbero diligentemente impegnate nell'immediatezza? Ma a parte già c'è una normativa regionale che è l'irregolamento noi possiamo comunque scendere nei dettagli ed essere più precisi ma la commissione bilancio da me preseduta innanzitutto vuole intervenire sulla riqualificazione urbana e servizi sociali soprattutto perché diciamo che c'è una grande carenza di somme per cercare di coprire tutte le esigenze dei servizi sociali e soprattutto le grandi opere che mancano in questa città. L'accoglienza dello straniero dalle supplici di Eschilo alle immigrazioni dei nostri giorni è il tema che è stato scandagliato ieri nel corso di un incontro dibattito promosso dal convegno di cultura Maria Cristina di Savoia preseduto da Flora Montana Santa Maria. L'evento si è tenuto presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei di Gela e rientra nel piano delle attività e delle iniziative programmate dall'Istituto. Come ogni anno l'Istituto Mattei prevede un tema centrale articolato e sviluppato nei diversi ambiti disciplinari. Quest'anno il tema centrale è stato identità e integrazione. Ci sembrava opportuno accogliere l'invito e far sì che questa giornata fosse una giornata di riflessione più per gli adulti devo dire perché i ragazzi hanno riflettuto abbastanza tutto l'anno. Io personalmente partirò dal concetto di Xenos nella sua doppia valenza di ospite ma anche straniero ma nell'antichità lo straniero era sacro, era inviolabile, era una volontà divina di Zeus. Poi col tempo è cambiato, l'ospes è diventato nostis quindi è diventato un nemico, è diventato ostile, è davvero diventato uno straniero. Noi vogliamo dire invece che essere straniero vuol dire che la diversità è sicuramente un arricchimento per la comunità. La Sicilia che è sempre stata terra di approdo, terra di accoglienza che oggi vede tanti disperati a prodare nelle proprie coste in cerca di un futuro migliore. A noi è sempre opportuno parlare di questo fenomeno per seguire anche e ascoltare l'invito di Papa Francesco educare i giovani soprattutto ma anche le popolazioni all'ascolto, all'inclusione, all'integrazione. E straordinariamente Eschielo 2500 anni fa scrisse una storia che potrebbe essere raccontata tranquillamente dai giornali di oggi. Francesco Pira, c'è una brutta parola nel nostro vocabolario che è razzismo. Forse quelli che non si proclamano tali possibilmente temono, hanno quantomeno un po' paura. Alcuni temono addirittura che l'Europa possa diventare islamica. Le dichiarazioni del sindaco di Londra di poche ore fa dicono assolutamente questo che l'Europa diventerà islamica e ci sarà una preponderanza di uomini di religione islamica. Ma il tema che io proverò ad affrontare è quello di come noi viviamo il fenomeno migrazione attraverso la percezione dei media. Anche un osservatorio importante come quello della Carta di Roma che doveva in qualche modo garantire i diritti di queste persone addirittura provando a chiamarli con il loro nome noi facciamo una confusione una marmellata bestiale di nomi per esempio il rifugiato lo chiamiamo migrante la persona che viene qui a cercare lavoro lo chiamiamo extracomunitario non riusciamo nemmeno dal punto di vista linguistico a riferire bene quello che deve essere invece il nostro modo di approcciare è un tema che è un tema di grandissima attualità è un tema che è schiacciato tra tre macro temi quello della globalizzazione quello della crisi economica e quello del terrorismo internazionale Per recuperare i luoghi culturali dimenticati il governo nazionale mette a disposizione 150 milioni di euro fino al 31 maggio prossimo tutti i cittadini potranno segnalare all'indirizzo di posta elettronica bellezzachiocciolagoverno.it un luogo pubblico da recuperare ristrutturare o reinventare per il bene della collettività e Gela si muove subito per le mura Timoreontè di Capo Soprano Peppe Laspina del gruppo archeologico d'Italia Gelo e Trischerion Un luogo sicuramente da reinventare è un luogo storico di grande importanza sappiamo che appartiene al periodo del IV secolo a.C. è un esempio unico di fortificazione con un alzato in mattoni crudo che si è conservato in modo straordinario e che all'interno dell'area conserva anche dei resti abitativi della città è un parco che dobbiamo cercare di valorizzare e quindi vi invito a inviare una mail bellezzachiocciolagoverno.it segnalando il parco archeologico delle mura di Capo Soprano La Proloco Gela sempre molto sensibile ad ogni iniziativa di recupero e potenziamento del bene comune sottolinea che il sito archeologico delle mura poco utilizzato e valorizzato merita certamente di diventare una bellezza d'Italia Una delle promozioni che facciamo noi come Proloco è proprio quello di far prendere coscienza e atto sia ai bambini sia ai grandi di questo bellissimo patrimonio attraverso il social network che è uno dei canali più utilizzati attraverso i giovani e questo ci permetterà sicuramente di far prendere coscienza di ciò che abbiamo e quindi rispettarlo con la conseguenza che verranno molti da fuori ad apprezzare ciò che abbiamo realizzato qui a Gela Già le mail sono state inviate? Le mail sono già partite stiamo attraverso gli amici del social network facendo in qualche modo una grande pubblicità in questo senso e a quanto pare tutti addiriscono perché l'idea è abbastanza interessante Sono Duilio Larocca del liceo classico Eschilo Sefora Cassarino del liceo delle scienze umane Dante Lighieri e Aurora Tallarita dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo i vincitori del concorso fotografico Le Dune e Gelesi promosso dalla Soroptimist Club di Gela agli studenti vanno rispettivamente 200, 150 e 100 euro All'iniziativa hanno partecipato anche il liceo scientifico Elio Vittorini e l'istituto Ettore Majorana Ieri cerimonia di premiazione nell'aulamagna della scuola Luigi Capuana Noi abbiamo riscontrato nelle scuole nei ragazzi che sono stati numerosi nell'intervenire un interesse che veramente ci ha colpito e ci ha fatto molto piacere perché noi miravamo proprio a questo miravamo proprio al e il concorso aveva questo scopo quello proprio di valorizzare l'ambiente è di far conoscere le Dune, le Dune e Gelesi che sono un patrimonio un patrimonio del nostro territorio quindi questa cosa ci ha portato ci ha veramente portato a migliorare a creare e a fare questo concorso Il dirigente scolastico Cetta Mongelli La nostra mission da anni è conoscere per valorizzare la scuola per il territorio e quindi aprirsi Gela archeologica storica ma anche ambientalista anche paesaggistica quindi il concorso le Dune e Gelesi per noi era proprio assolutamente inerente al nostro POF e quindi quando il Store Optimist Club di Gela preseduto da Maria Grazia Falconeri di cui peraltro mi onoro di far parte mi ha chiesto la location per noi tutta la scuola e tutto il personale e i docenti è stata cosa graditissima anzi siamo onorati di ospitarlo All'iniziativa di ieri tra gli altri era presente anche Francesco Vacirca presidente dell'associazione Leopoldia Agricoltura, Biodiversità e Rigenerazione del Territorio Le Dune sono valorizzate e questo tipo di attività di oggi è un qualcosa in più che dà ancora più visibilità alle Dune e alla salvaguardia della Leopoldia da un punto di vista agricolo noi stiamo operando abbiamo già costituito un'associazione di produttori abbiamo realizzato un marchio che si chiama proprio Leopoldia che ha la finalità di salvaguardare questa specie rara che si sviluppa solo nel nostro territorio ma nello stesso tempo di valorizzare le produzioni agricole che vengono prodotte in questi ambiti in queste zone sensibili al fine di dare un di più ai produttori agricoli che ovviamente saranno sottoposti a un disciplinare e a un regolamento di produzione specifico sostenibile a basso impatto ambientale Un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere mitragliere gelese protagonista indiscusso della grande guerra e piume baciatemi la guancia ardente lo ha scritto Vera Ambra il libro ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura dimissione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche il patrocinio morale della situazione nazionale del Fante attraversare quel periodo non è stato per nulla facile ma soprattutto perché si trattava di ragazzetti ragazzetti strappati alle famiglie e buttati in posti impensabili invivibili e Salvatore ha sviluppato la sua azione eroica in un posto difficilissimo il più difficile di tutto il fronte della guerra a 2200 metri d'altezza sul dende italiano ha difeso il dende italiano e da solo con sette soldati è riuscito a fermare l'avanzata del più grande esercito del mondo organizzato e nei tre giorni che precedettero la battaglia morirono 3360 soldati italiani la presentazione del libro si è svolta nei locali del museo archeologico regionale di Gela i lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara alla presenza delle autorità cittadine e dei presidenti delle associazioni Rotary Club Fida Palla Eons Club del Golfo Chivanis Proloco Archeoclub e Lega Navale è una storia che non è semplicemente la storia di un soldato è la storia di un uomo che è un medico è anche un soldato ed è combattuto fra queste due diciamo queste due alternative volendo quasi esclusive nel senso che il soldato toglie la vita il medico le salva quindi è anche un po' combattuto da questo punto di vista e rappresentare invece un eroe attraverso dei disegni che esperienza è stata attraverso il disegno esprimere spero le mie potenzialità e anche io mi sono immerso nella storia perché ho dovuto fare prima di tutto una ricerca anche di immagini quindi immagini crude immagini storiche e ovviamente ti immedesimi nel personaggio l'acquiglienza è stata curata dai docenti e dagli studenti dell'istituto alberghiero retto da Grazio di Bartolo il museo racconta delle storie racconta delle storie antiche ma questa è l'occasione per una storia un po' più moderna grazie a tutti Grazie a tutti.